Fere, ma dove mi hai portato esattamente? In un monastero, mi sembra ovvio, cioè guardati in giro, è ovvio che siamo qui, no? Sì, ma perché siamo venuti qui? Perché oggi ti insegnerò a diventare un abilissimo ninja. Ma tu non sei un ninja, Fere. Certo che lo sono, guarda, guarda. Fere, come hai fatto queste cose? Ho imparato senza di te, non ti interessa, non ti interessa, io so fare tutto anche se tu non lo sai. Aspetta, ma ci provo anche io. Ah, Fere, ma è semplice, guarda, guarda che bravo che sono, guarda, Fere. E ragazzi, come va? Io sono Fere Niki. E sono Stefano, che si giocava a Roblox. E oggi siamo qui in un nuovissimo hobby che ci permetterà di diventare dei valorosissimi ninja, ovviamente superando tantissimi ostacoli e dure prove. Ok, allora voglio subito... Come ok? Devi essere un po' più gasato, devi dire sì, che bello. Sai perché non lo sono? Perché? Io sono un pirata, non mi frega nulla del ninja. Sì, però se ci pensi, essendo un pirata puoi sfruttare anche le abilità di ninja per diventare un pirata più forte. Allora, tu adesso fai tutte le tue mosse, io tiro fuori la mia pistola, ti sparo ed è finita, non me ne frega nulla. No, perché io sono talmente abile che riesco a schivare tutti i primi, e poi guardami. Proviamo. Guarda i muscoli che ho, guardami, guardami, guardami. Sì, sei molto storta, Fere. Non so perché ho la divisa da maschio, le gambe così, però pazienza, pazienza. Allora, in questo monastero sanno quello che fanno, quindi io mi fido. Va bene, va bene, va bene. Buongiorno, è il nostro maestro Fere? Sì, sì, sì. Infatti dice, vedi, potrei diventare un guerriero ninja, quindi andiamo da questa parte e iniziamo. Ok, va bene, dai, proviamo. Ok. Ok. Allora, si inizia subito con del parkour. Era per farti vedere che è molto difficile. Ah, ok. E quindi devi stare attento, capito? Sì, sì, va bene. C'è qualcos'altro che mi vuoi far vedere prima che ne vada? Allora, il problema è che io le gambe storte. Sì. E con queste gambe storte è davvero difficile saltare. Certo, certo. Non devo prendere con me. No, 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 lo capisco, lo capisco. Vedi che anche quello davanti a me è morto, non è colpa mia. Ti sei confrontata a un guest? Era un guest quello. Ah, era un guest, mio Dio. Quindi... No, non è un guest. Opla, 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 opla. Mamma mia, con che capriole sto saltando, Fere? È un po' troppo eccessivo. Ok. Ok, ok, ok. Aiuto, smettila di fare capriole mentre dovresti fare dei salti normali. Rende tutto più difficile. Esatto, è davvero complicato questo allenamento. Allora, dobbiamo... Vedi, l'arte del bilanciamento, perché non devi essere né troppo a sinistra... No, guarda che non è bilanciamento. ... né troppo a destra. Equilibrio. Che cosa è bilanciamento? Equilibrio. Né troppo a sinistra, né troppo a destra. Steph, non sai mai nulla. Steph, non sai mai nulla. Sei ridicolo. Ci puoi fare anche un balletto sul sinistra e destra. Guarda, Fere. Vabbè, io sono partita, ti lascio perdere. Vabbè, vabbè. Continuo il mio allenamento senza di te. Ok, Fere, arrivo, arrivo, arrivo. Fere, siamo arrivati anche ai vulcani. Però è bellissimo questo obbio. Perché un ninja sa sopportare anche il caldo. Sa sopportare tutto. Però vedi, in questo sono io quello che l'ho portato. Perché ho la sciarpa anche ad agosto. E quindi, teoricamente, sono io quello che sopportare meglio il caldo. Non penso che funzioni così essere un ninja. Scusi. Dupito che funzioni così. È valoroso usare la sciarpa anche ad agosto. Sì, Steph. Non tutti i ninja ci riuscirebbero. No. Grazie, ninja. Dai, muoviti. Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Opla. Ciao. Ottimo. Allora. Ok, sta diventando un po' tutto strano. È davvero bello però questo obbio. Oh, l'hai visto? Aspetta, aspetta. Voglio vedere il prossimo un attimo. Lo sto aspettando. Ci schiaccia. Ok, sì, sì, sì. C'è davvero. Non me lo son sognato. Però, prima di tutto, dobbiamo stare attenti a non cadere nell'acqua gelda. Quindi, da questa parte, arrivano le pietre. E le dobbiamo schivare. Fere, mi fai vedere cosa succede se ci schiacciano pietra? Aspetta, ora vado, eh. Sono prontissima. Vai, Fere. Sono prontissima. Ok. Bisogna nascondersi qua, suppongo. Dove, Fere? Qua. Qua, 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 qua. E adesso da questa, adesso da questa, adesso da questa. Corri, 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 corri. E poi di nuovo lì a destra. Ora, corri, Fere. Corri, 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 corri. Togliti. Guardato. Mamma mia, se mi fai morire, guarda, eh. Andiamo. Vai, togliti. Veloce, prima che corri. Ok, tutto a posto. Più o meno, più o meno. Ok. Uh, ti ha assiorato, ti ha assiorato, Fere. Davvero? Ah, non ho neanche vista l'altra. Non voglio farmi pungere, non ci tengo proprio. Quindi sto bello attento. Volevo dire comunque, ragazzi, che questa mappa in descrizione di subito non ve le mettiamo perché vengono tolte dopo qualche giorno con una nuova mappa. Infatti appena l'abbiamo vista ci siamo subito messi a fare il video perché avevamo paura che scomparisse. Esatto, probabilmente domani non ci sarà già più, quindi. Già, 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 già. Esatto, esatto. Quindi provate a cercarla, ma se non la trovate è perché appunto la toglie. Per ogni tanto le rimettono, quindi è giusto un po' di fortuna. Oh, mamma mia, Fere. Questo è complicato, eh. E beh, siamo arrivati nel templio del dragone, quindi suppongo che sia tutto più difficile. E infatti ho visto che c'è tutta la lava sotto. Difficile. È molto, molto pericoloso da queste parti. Ecco qua. Fere, volevo andare a vedere. Oggi non ci sei, cioè io ti ho portato qua a fare un allenamento serio e tu stai continuando a sbagliare. Ascolta, mi Fere. Non sei concentrato. Prima. Non hai il giusto focus oggi. Il nostro maestro prima ha detto che il ninja sa e sopportare anche le temperature molto calde. Sì, ma non è che deve morire. Mi hai fatto morire pure a me. Non è che deve morire ogni due secondi. No, stai attento a quella serpentina. Ahà. Perché se non salti bene, cioè ci vai di testa e cadi sotto. Ah, ok. Non me l'aspettavo, non me l'aspettavo. Uh, è pericolosa. E te l'ho detto, è molto strana. Ce l'ho fatta, devo entrare nella bocca del dragone mistico, però ti aspetto. Che bellino. Ciao, drago. Come sei? È troppo bellino. Ciao, Fere. Sono il drago mistico. Allora, la smetti, Steph. Sì, tu. Sei pronta ad affrontare incredibili sfide? È arrivata una farfalla. Non ti distrarre con le farfalle, guardami. Mi piaceva molto. Guardami negli occhi. Sei pronta? Io sì, ma il mio compagno Steph, che fa un po' schifo, continua a morire e mi fa perdere la concentrazione. Perché non riesco ad entrare? Ah, ecco. Ecco qui. Allora, aspetta, Fere. Ascoltami, ascoltami. Dice, ben fatto, giovane guerriero. Prendi i soldi. I guerrieri veri non vogliono soldi, quindi se tocchi i soldi, muori. Fere, Fere. Mi ha fatto cadere di sotto. Cos'è successo? Dovevi cadere di sotto? Non lo so, non lo so. Sì, 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 è tutto. E vabbè, però. La vedi? Ma forse non era, ok, non era proprio una casetta, è tipo una cesta di giocattoli. Ma benissimo lo stesso. Vai, Fere. Attenta alla lava. Vai, Fere, che ce la facciamo. Passa la lava. Al primo tentativo a fare... Opla. E adesso? Basta, però. Ma sei caduto? Ma faccio schifo come ninja. Sì, di solito nei parkour non vai così male, ma come ninja sei davvero pessimo. Lasciatelo dire, lasciatelo dire. È colpa del cappello. Mi distrugge l'aerodinamica delle mie capriole. Comunque c'è da dire che il cappello che è adesso è molto più bello di quello che avevi prima. Dici? Io ancora non sono convinto del tutto. Facciamo un sondaggio. Va bene. Nuovo cappello di Jack Sparrow o vecchio cappello. Va bene, va bene. A me piace di più il nuovo. Andiamo a fare... Andiamo! Ah. Ma cosa c'entra? Aspetta, io non riesco... Ah, guarda. Dice che siamo entrati nella mente di un bambino. Ok? E che dobbiamo concentrarci per tornare alla realtà. Non so bene cosa c'entri con dei ninja come allenamento, però ci dobbiamo fidare del nostro maestro. Esatto. Lui saprà qual è il percorso migliore. Ma che bellino però! Spera, ma dove stiamo finendo? È molto lungo questo posto. Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Arrivo. Aspetta. Aiuto. Oh mamma mia, che succede qua? Ok. Ma dove siamo finiti? Nella tana del topolino? Oh mamma mia. Allora, salta, salta, salta. Ok, adesso formaggio, formaggino, formaggetto, formaggiollo, formagione. Mi hai fatto solo distrarre, non faceva ridere neanche una delle cose che hai detto. La conosci l'arte finale dei ninja? Tipo... Ui! Mmm, peccato. Ce l'ho quasi. Lasciami in pace, non ci provare anche tu che già mi hai fatto arrabbiare con lo biondo. Quasi ucciso. Vieni qua che è semplice. E adesso dobbiamo giocare a scacchi, però non nel modo più normale. Dobbiamo fare parkour tra le varie pedine. Oh mamma mia, siamo tornati nella stanza dei giochi. No, è difficilissimo però questo. Ma dai! Perché è fine, 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 fine. Cioè, perché stiamo facendo queste cose complicatissime oggi? Perché siamo dei ninja, Ferre. Oh, non voglio più essere un ninja. Vieni. Brava. Voglio solo dormire e mangiare dolci tutto il giorno. Uh, ho rischiato un sacco. Ok, 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 tutto a posto, tutto a posto. Perfetto, perfetto. Opla, opla, opla. Oh, meno male. Da pazzi questo, questo biettavvero. Da pazzi! Dai, che ce l'hai fatta anche tu, bravissima. Fammi prendere il checkpoint prima che muoia. Allora, qua invece abbiamo tutti i militari. Non vedo l'arrivarci, ma prima c'è il ping pong con le palline. Va bene, è bellissimo sto livello, è bellissimo. Opla, opla, mamma mia. Soldatino. Che belli, a questi ci giocavo anche io da piccolo. Sì, pure io. Ferre, il carro armato è invisibile. Ok, quindi continuo sui soldatini. Sì, l'ho appena scon... Grazie per avermi avvisato. Prego, Ferre. No, ma mi tocca rifare anche il ping pong, ma dai. Ma non è giusto. Ferre, dove sei? Allora, ti aspetto qua perché ho un dubbio, vieni. Aha. Cioè, secondo te dobbiamo saltare sulle palline o sul tavolo? Sono troppo lontane le palline. Non trovi? Sì. Ok. No, no, no. Puoi andare, puoi andare, puoi andare. Niente ti fa danno, puoi andare. Ok. Vai, vai, vai. Ho avuto una paura incredibile. Sì, pure io. E adesso... Ma quando è il checkpoint? Io vado qua nel cuscino. Ok. E poi... Qua? Dobbiamo andare sotto le coperte? Sì, 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 sì. Ho avuto paura di morire per un attimo. Mamma mia. E adesso... Ok, allora... La sfida finale. Ok. Ok. Finalmente ci siamo alla sfida. Ha parlato di corde? Scusa, togliti. Mi stai facendo... Ma... Ah, ok. Ferre. Tutto a posto. Allora, se vai in una porta... Sei caduto anche tu? Sì. E non sei mai a te, Ferre. Perché devi andare in questa cosa minuscola. Ok. Guarda quanto è alto. Vabbè, basta. Non voglio più essere un ninja. Abbracciami. Mi arrendo all'ultimo livello. No, togliti. Abbracciami, Ferre. Ti sto per dare un pugno, vai. Allora... Ah! Guarda! No, mamma mia. Ti sei incastrato. Non è nato da posto. Continua ad andare piano, 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 piano. È troppo fine, non si può fare. Con calma. È troppo fine. Allora, c'è la prima curva. Aiuto. Ah! Ok, ce l'ho fatta. Uff. Vai, Ferre. Oh, mamma mia. Sono quasi ricaduto. Ci sono punti in cui rimane a fluttuare, quindi è difficilissimo. Oh, mio Dio. Ah! Lobby più difficile che abbiamo mai fatto. In assoluto. Ok. Ah! Ferre, non ti distrari adesso. Siamo più o meno a metà percorso. Non ce la faccio più. Basta! Lo so! Basta! Lo so, Ferre. Aiuto. Più o meno a metà. L'ultimo pezzo difficile. Sì. Ce la possiamo fare, Ferre. Ok. Ce l'ho fatta. Vai, vai. Oh, mamma mia. Ah. Abbiamo completato la sfida finale. E adesso? Cosa è successo? Come hai fatto a cadere all'indietro? Steph, che ti è successo? È presente che ho aperto la porta? Sì. Mi ha dato un colpo. Mi hai finto giù. Devo rifare tutto, Ferre. Mi dispiace, Steph. Beh, vado a godere. Anzi, guarda, no. Mi è venuta un'idea. Stai fermo lì. Stai fermo lì. Mi è venuta un'idea. Ok, Ferre. Mi è venuta del secolo. Ti aspetto. Esatto. Stai fermo, stai fermo. Inizia a fare la strada e io ti seguo. Esatto, sei pronto? Vai. Vai. Ok. Ci sei? Sì, Ferre. Continua, continua, continua. Vai, 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 vai. Vai, Ferre. Corri. Alla fine, però dai, c'è almeno la gloria di essere riusciti a finire questo hobby. Esatto, esatto. E di essere diventati finalmente dei ninja super potenti e bellissimi. Aspetta però, guarda cosa dice. Hai completato l'allenamento, ma puoi trovare il badge segreto? Sì, esatto. Allora, quando stavamo per entrare nella mappa, l'ho visto che c'è il badge di quando finisci. Ok. È un badge segreto che ovviamente non ho idea di come si possa trovare. Io direi di andare in giro a cercarlo. Andiamo a cercarlo? Certo. Perché secondo me c'è un po' insultato. E ha detto, eh sì, questo lo finiscono un po' tutti. Ma riuscite a fare la cosa che non tutti riescono a fare? Ciao, ciao. Ti arrendiamo? Sì Uffa Ogni volta non lo troviamo Secret Li fanno troppo complicati Ma dai Dove lo dovresti trovare? Almeno un indizio E quello è il bello Il fatto che è complicato È giusto così È un piccolo indizietto Qualcosa del genere In ogni caso dai Direi che ci possiamo fermare così Perché questo video Speriamo che vi sia piaciuta questa mappa Io l'ho adorata Se ne fanno un po' di più In questo stile Quindi molto personalizzate Con magari anche appunto Delle meccaniche di gioco Un po' diverse Come in questo caso Secondo me Sono davvero fantastiche Quindi fateci sapere Con sondaggino e commenti Nei commenti Soprattutto se avete trovato il secret Invece sondaggino Se vi è piaciuta questa mappa Tanti likes E ci fermiamo così Spero che se vi lasciate In questo video Sciateci un like E se è la prima volta Che vedete il nostro video Potete considerarvi Da iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao 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 ciao